Madre e sorella avrebbero indotto una ragazzina minore ad avere rapporti sessuali a pagamento con due uomini. Questa la triste vicenda che sarebbe emersa dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico nel Palermitano su un presunto giro di prostituzione. Pesanti le ipotesi di accusa, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e atti sessuali con una minore, formulate dalla procura di Palermo a vario titolo nei confronti di sei persone residenti tra le province di Palermo ed Agrigento, che all'alba di questa mattina sono state raggiunte da ordinanza di misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale Palermitano. Due sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per altri due è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Secondo le indagini avviate nell'agosto 2021 e condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico, sotto la direzione della procura distrettuale di Palermo fino al febbraio di quest'anno, con l'ausilio di intercettazioni telefoniche sarebbe stato possibile documentare come una minorenne fosse stata indotta dalla madre e dalla sorella a consumare rapporti sessuali a pagamento con due degli odierni indagati. Emerge un presunto giro di prostituzione alimentato dalle due donne, che avrebbero avuto inoltre l'appoggio di un familiare e di coloro che, dopo aver consumato rapporti sessuali con loro, si sarebbero adoperati per procacciare altri clienti.